Sì, no, ci sono, ci sono Dite subito la situazione appena la vediamo Sono qua Ok, caita lì Questa è un nado Un po' il cazzo Ok 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 Mocchio in Scalzi di ripare, scalzi di ripare ok non andati non andati dai ragazzi concentrati che mancano 40 secondi al prossimo cap vai dipendo da solo, andatemi dipendo da solo vado a non perdere un po' le panze stanno capato mi è schunato i governor mi hai scrotto vai via 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 vai via via 1, 2, 3, 4, 5, 6, i pen e few ogni bada non bisognarmi un po' di una scennata barra ovesse ragazzi facciamo un po' la puntina, vai via via vai verso stanno, eh, ti stanno, stanno ricappando ok dietro stanno tornando solo uno ok, legge no, no, lo faccio fuori c'è natura che mi vede, mi vedono si cliccano, occhio in no, no, vai vabbè, vabbè arrivano, arrivano sono solo due da me è di regoli, regoli occhio, occhio a star lì, occhio a star lì vado io non esistete bella bacca grande ora ci va no, grazie no, grazie fa niente, fa niente fa niente, fa niente fa niente, finito, finito, finito ti spegniamo tu, eh, tu di culo ci siano possibili tu di culo ci siano possibili no, grazie sono tutti qui ragazzi arriva, arriva ormai puntano alle kill non puntano più a far punti ce l'abbiamo tutti noi ormai non vanno neanche più sulle no ora ci siamo ragazzi non c'entrati sempre chitiamo ragazzi tanto è inutile che non facciamoci ammazzare a questo punto enjoy concentrati dietro, dietro ragazzi dietro, dietro bene direi qui finiamoli proprio questo era una cosa eh, abbiamo fatto bene no, no, no fa niente ora, stai scaricando qui qui ah no, stai zitto ah ah non c'è non c'è bene un'altra stai è è qui qual'è resta Grazie a tutti.